Ok, la registrazione è partita, vai Allegra, grazie. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla seconda edizione del webinar Covid-19, condivisione dei dati, perché in Italia si fa troppo poco. È un webinar che introduce una serie di altri eventi che saranno tutti online, di cui vi dirò tra un momento. È un'iniziativa che vede uno sforzo congiunto di varie organizzazioni e infrastrutture, potete vedere in alto nella prima slide il logo delle varie organizzazioni, infrastrutture che hanno partecipato e che stanno partecipando alla realizzazione di questa iniziativa. Qui abbiamo i prossimi appuntamenti, in realtà sono i prossimi eventi e le date sono ancora da definire, ma si svolgeranno comunque tutti nelle prossime settimane e mesi. Questo di introduzione, quello di oggi, è un webinar che tocca la questione dell'open science, degli open data, la necessità della condivisione dei dati per contrastare la pandemia in corso, mentre le altre iniziative, gli altri webinar e tutorial, invece si focalizzeranno su specifici set o tipologie di dati. Quindi avremo un webinar che si occuperà del problema dei dati epidemiologici, un webinar che si occuperà di dati clinici e poi un tutorial, anzi in realtà saranno due tutorial, un tutorial parte 1 o parte 2 su i dati omici e poi infine avremo un tutorial che sarà dedicato ai protocolli e altri strumenti per l'analisi dati. Le persone direttamente coinvolte in questo sforzo organizzativo e anche di progettazione sono Emma Lazzari, Gina Pavone, Francesca De Leo, Loredana Lepera e la sottoscritta. Allora, da dove nasce tutto questo? Da dove nasce l'esigenza di parlare, la forte esigenza di parlare di open science e di condivisione dei dati. In realtà il discorso, come vedrete, è molto generale, ma c'è un'esigenza particolarmente forte legata alla questione del Covid. Dunque, un punto nevrangico è il fatto che l'Italia condivida molto poco i dati relativi, al Covid. Questo che vi mostro è un esempio. In Italia abbiamo al momento più di un milione di casi, più di 45 mila morti e le sequenze depositate in GIMBank. GIMBank, perché non lo sapesse, è la più grande banca d'atti al mondo dove vengono raccolte sequenze, tutte le sequenze che vengono prodotte, direi di qualsiasi organismo, ma in particolare GIMBank ha sviluppato una sezione completamente dedicata a Covid-19. Ecco, l'Italia ha depositato in GIMBank 75 sequenze ad oggi. Per darvi un'idea, per darvi un confronto, l'Australia, che ha avuto 27, quasi 28 mila casi, solo poco più di 900 morti, ha depositato in GIMBank più di 11 mila sequenze. Quindi ci siamo domandati, ci si domanda perché l'Italia in fondo condivida così poco i dati che produce. L'esempio delle sequenze è un esempio, ma in realtà il problema è relativo alla condivisione dei dati epidemiologici e dei dati clinici anche. E non è solo la questione di condividere. Il problema non è solo condividere, ma è anche come condividere. Quindi come raccogliere dati? Perché la questione, per esempio, di raccogliere dati in maniera tale che siano confrontabili, ad esempio tra regione e regione, in maniera tale che vengano raccolti seguendo dei protocolli standardizzati, in maniera tale che vengano annotati. Annotati significa che ad ogni dato viene associata informazione, quelli che vengono chiamati metadati, delle informazioni che permettano, che diano la tracciabilità del dato, che facciano capire come quel dato è stato ottenuto. E non solo, c'è la fortissima necessità che tutta questa informazione standardizzata, annotata, venga poi condivisa in modo che sia leggibile, per esempio, da computer. I dati che sono leggibili dal computer vengono detti interoperabili. E questo è particolarmente importante perché questi dati possano essere analizzati, possono essere confrontati e quindi possano essere utilizzati nella ricerca e utilizzati per prendere decisioni strategiche. La comunità scientifica sempre più sta portando all'attenzione dell'intera comunità la necessità di sviluppare delle risorse proprio per la raccolta e la condivisione dei dati. In particolare abbiamo, qui vi cito anche questo un po' ad esempio così preso a campione, però penso sia abbastanza significativo, vi cito Giorgio Parisi, un fisico presidente dell'Accademia dell'Incei, che dice i numeri sono fuori controllo, non si può agire alla cieca, con un database nazionale si potrebbe fare un tracciamento più preciso dei contatti. non solo servono dati affidabili, puntuali, armonizzati a livello europeo per studiare e combattere il Covid-19, serve un database europeo multidisciplinare. Qui abbiamo un'altra citazione che dovrebbe far capire insomma quale sia il messaggio, in questo caso della dottoressa Stefania Salmaso, epidemiologa ed ex direttrice del Centro nazionale di epidemiologia e sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità, che ad agosto 2020, quindi già da un po' di tempo, diceva abbiamo avuto 250.000 casi e ancora non sappiamo quale sia il rischio delle singole situazioni in cui siamo esposti al contagio, ne sapremmo di più se avessimo raccolto i dati in modo coordinato. Invece ancora oggi non esiste uno strumento tecnologico per registrare i dati dei casi e dei loro contatti. È proprio della scorsa settimana, delle ultime due settimane, una petizione di change.org, qui in alto potete vedere proprio il link alla petizione, in cui viene richiesto che i dati siano pubblici, disaggregati, continuamente aggiornati, ben documentati, facilmente accessibili ai ricercatori, decisori, media e cittadini. Ora, quindi questi sono diciamo una serie di esempi che dovrebbero far capire quanto in questo momento sempre più sia chiaro che l'unico modo veramente da un lato per prendere decisioni strategiche, dall'altro per fare sì che la ricerca possa andare avanti e trovare soluzioni per questa pandemia sia quella di arrivare ad avere delle risorse dove i dati vengano condivisi, dove i dati siano aperti, dove i dati siano trasparenti e quindi utilizzabili e leggibili. La buona notizia è che in realtà si stanno muovendo una serie di iniziative sia a livello europeo, questa è una lettera che è stata firmata dalla Commissione europea che invita chiunque pubblici dati relativi a Covid-19 di rendere questi dati immediatamente accessibili attraverso ripositori pubblici in maniera tale che possa essere veramente supportata la ricerca. Ci sono anche altre iniziative che stanno andando in questa direzione questo è un altro esempio dell'ICDI o ICDI, l'Italian Computing and Data Infrastructure che sta supportando la raccolta di informazioni ad accesso libero. Non entro ovviamente nel dettaglio per questioni di tempo, però ecco vorrei ancora menzionare molto rapidamente un'altra serie di iniziative, queste sono iniziative che più in generale sono dedicate o si dedicano o promuovono tantissimo la condivisione di dati e dei risultati della ricerca e sono tutte iniziative, infrastrutture, organizzazioni, iniziative che stanno in questo momento compiendo un enorme sforzo proprio intorno ai dati di Covid-19. Andrò un po' veloce perché vorrei passare la parola agli speaker di oggi, ci tengo a dire che in realtà queste sono insomma iniziative di cui ci sarebbe ben più da dire, quindi mi dispiace che vada un po' rapidamente, però verranno menzionate dagli speaker di oggi e quindi è bene che chi ascolta abbia almeno un'idea di che cosa si stia parlando. Quindi una di queste è la RDA, Research Data Alliance, è una iniziativa che è nata nel 2013 e che relativamente a Covid-19 ha prodotto delle linee guida e raccomandazioni proprio per una condivisione dei dati che sia robusta, che sia funzionante, che sia curando anche appunto gli aspetti per esempio legali ed etici, eccetera, eccetera. In realtà nelle raccomandazioni, nelle linee guida c'è anche, ci sono, diciamo, sono anche relative alla condivisione del software per la ricerca. Altra iniziativa, infrastruttura estremamente rilevante è Open Air che è l'infrastruttura per l'open access per la ricerca in Europa. nata nel 2009, supporta molto fortemente l'open access. L'open air è, tra l'altro, uno degli organizzatori di questa serie di webinar e tutorial. Elixir è un'infrastruttura per i dati nelle scienze della vita, è attualmente forse l'infrastruttura più grande in Europa che si occupa appunto di dati per le scienze della vita, ha 22 membri, in realtà sono 23 membri, ogni membro è uno stato europeo e, diciamo, Elixir ha sviluppato una serie di risorse in supporto proprio della ricerca su Covid-19. Quindi, in particolare, di queste risorse vi parleremo più tardi. Questa è la piattaforma di cui vi ho accennato, che è la piattaforma appunto Elixir per la ricerca, per la raccolta di dati per la ricerca su Covid-19, chiamato Covid-19 Data Portal. In ultimo, questo è EOSC, European Open Science Cloud, questo è un'iniziativa europea molto estesa, dirai insomma, che ha come scopo quello di promuovere pratiche di open science a livello europeo. Questo è più o meno quanto, due parole sul programma di oggi, in modo che io possa lasciare la parola a chi entrerà veramente nel merito delle cose che io vi ho solo molto superficialmente accennato. Come prima cosa vi ho messo qui in alto un link a un questionario, in realtà è un questionario di una sola domanda a cui vi invitiamo caldamente a rispondere nel corso di tutto il pomeriggio e poi le vostre risposte saranno il punto di partenza della discussione che si terrà a fine giornata. In realtà il questionario è costituito da una sola domanda, quindi insomma non dovrebbe prendervi troppe energie e tempo. Per rispondere a questa domanda dovreste digitare www.menti.com e vi avrà richiesto un codice, voi potete mettere questo codice, il codice è 4025925, potete anche accedere al questionario utilizzando il QR code che ho messo qui in alto a destra e poi dopo che avrete digitato il codice vi comparirà la domanda e voi avrete la possibilità di rispondere. Il primo speaker di oggi è Emma Lazzari che vi parlerà dell'efficacia del modello Open Science e il suo metodo di cooperazione nel contesto della pandemia in corso, ruolo e azioni di Open Air e RDA. Dopo Emma Graziano Pesole che è il coordinatore di Elixir Italy, quindi del nome italiano dell'infrastruttura Elixir vi parlerà della condivisione dei dati al tempo del Covid-19, sfide e opportunità per l'Italia, ruolo e azioni di Elixir. Successivamente avrà inizio la discussione, la sezione domande e risposte, Q&A. Voi potete fare domande durante tutto il corso delle relazioni di Emma Lazzari e Graziano Pesoli cliccando sul bottone che dovreste vedere sull'interfaccia Zoom in basso a destra dove c'è scritto Q&A. Cliccando lì potete fare le vostre domande. Ci sarà Gina Pavone e noi tutti che raccoglieremo via via le domande che voi farete in maniera tale poi da fare sì che alle domande venga data una risposta in maniera il più possibile strutturata e organizzata. Alla discussione parteciperà anche Sara Casati che è un'eticista esperta di condivisione dei dati, è un'eticista nella ELSI Service che sta per Ethical, Legal and Societal Issues Services per un'altra infrastruttura importante europea che si chiama BBMRI. Per chi volesse un certificato di partecipazione può richiederlo a questo link qui sotto HTTPS bit.ly certificate 16-11-2020, ridaremo alla fine della giornata questo link. Il link rimarrà attivo per una settimana, quindi se voi richiederete il certificato dopo la settimana prossima, questo link non sarà più accessibile. Ok, direi che è tutto, io passo la parola ad Emma, interrompo la condivisione dello schermo, poi posso che riesca a farlo. Grazie Allegra, credo di essere, sono probabilmente riuscita a eliminare il tuo schermo e ora faccio partire la mia presentazione, un attimo di… scusate, allora… ecco fatto, allora dovreste poter vedere il mio schermo adesso, allora grazie Allegra, grazie a tutti per la partecipazione, io passo subito a parlarvi di… insomma comincio da qualche anno fa, ormai sono quasi 15 anni, questo ero io, diciamo, ma come credo chiunque si affaccia nel mondo della ricerca immagina il suo futuro e la sua vita come ricercatore o come ricercatrice, immagina tutta una serie di attività, di scoperte, anche di esperimenti interessanti e poi si ritrova chiaramente a fare i conti con la realtà e quello che succede è che oggi penso ciascuno di voi, chiunque di voi fa il ricercatore oggi, capisce molto velocemente che in realtà quello che viene richiesto al ricercatore è pubblicare. pubblicare non solo, ma pubblicare in riviste scientifiche ad alto e in path factor e il bisogno, la necessità di essere citati e quindi tutti prima o poi, molto presto, anzi capiamo velocemente che il dilemma è sempre quello, quindi publish or perish. ma chiediamoci poi che cosa succede di tutta la nostra ricerca, tutto quello che noi facciamo finisce in queste riviste scientifiche e come si ha accesso a queste riviste scientifiche. Sicuramente con il lockdown e con le situazioni che stiamo vivendo in questo momento per via del covid abbiamo capito benissimo che noi abbiamo accesso solo se siamo all'interno della nostra rete istituzionale oppure se abbiamo delle credenziali di accesso e come funziona? Chi ci dà queste credenziali? Ce le danno le nostre istituzioni, quindi da una parte ci sono le istituzioni per cui lavoriamo, a cui siamo affiliati, che pagano e dall'altra noi possiamo avere in questo modo accesso alla letteratura scientifica. Attenzione perché noi abbiamo accesso ma non possediamo niente. Molti anni fa, prima dell'avvento del digitale, in realtà le istituzioni acquistavano le riviste quindi avevano poi a disposizione le riviste nelle biblioteche, oggi non è più così. Adesso ci sono abbonamenti per l'accesso al servizio che chiaramente una volta che finiscono quindi se un'istituzione decide di non pagare più l'abbonamento fanno sì che il ricercatore non abbia accesso nemmeno alle riviste, ai numeri passati delle riviste quindi le istituzioni in pratica non possiedono più niente. In realtà c'è una certa complessità nelle riviste scientifiche, in particolare nei modelli di business che i grandi editori propongono alle istituzioni. Quello di cui vi parlavo prima, quindi il modello tradizionale è quello che prevede il pagamento di un abbonamento e questo abbonamento è un abbonamento di solito annuale che le istituzioni pagano appunto per dare accesso ai propri ricercatori, ai contenuti della rivista. I costi di questi modelli sono esorbitanti, si parla di 1-3 milioni di euro a seconda della grandezza dell'istituzione per istituzione ogni anno. Sono tantissimi soldi se facciamo un conto globale. C'è poi un altro modello, un altro modello di business, ci tengo a sottolineare, che si chiama Gold Open Access. In questo modello è previsto che un autore pubblichi in una rivista se può pagare la cosiddetta APC. È anche vero che molte riviste di questo tipo, soprattutto quelle che vengono sostenute dalle università, non richiedono agli autori di pagare alcunché. Solamente il 27% delle riviste richiede il pagamento di una APC agli autori per pubblicare e questa APC chiaramente ha dei costi molto più bassi. Si parla qui per articolo, quindi un articolo può costare dai 100 ai 6 mila euro a seconda della rivista. Ripeto, non tutte le riviste chiedono un pagamento per la pubblicazione. E c'è poi un terzo modello. Questo modello è il cosiddetto modello ibrido, dove abbiamo un giornale che tradizionalmente si sostiene attraverso un abbonamento, ma che richiede agli autori di uno specifico articolo un costo per aprire solo quell'articolo al mondo intero e renderlo quindi open access. Qui le APC che si pagano sono un pochino inferiori, si parla più o meno della metà di quello che viene pagato per il modello gold open access, in realtà tenete presente che sotto questa rivista c'è pur sempre un abbonamento. Quindi abbiamo qui il cosiddetto fenomeno del double dipping, cioè da una parte la rivista chiede i soldi a un'istituzione per permettere ai ricercatori di leggere i contenuti, dall'altra chiede i soldi agli autori per aprire in open access un determinato articolo. Quindi diciamo che queste sono le riviste con i maggiori costi da sostenere per la società. Pensate che globalmente, questa è una stima un po' vecchia, si parla ormai del 2015, si spendevano allora 10 miliardi di dollari a livello globale per gli abbonamenti. Chiaramente tenete presente che questi sono i soldi che globalmente pagano tutte le istituzioni di ricerca per ricomprare gli articoli che i propri ricercatori scrivono e sono veramente tanti soldi. E qual è il problema di questi modelli? Qual è il problema del fatto che i ricercatori si affidano a dei modelli commerciali, a degli editori commerciali per disseminare il sapere scientifico? Beh, intanto questo sistema non è per niente trasparente, i grandi accordi con gli editori non sono trasparenti, cioè noi sappiamo quanto pagano le università ma non sappiamo i dettagli degli accordi. C'è chiaramente un problema di accesso perché solo chi si può permettere di spendere ha accesso alla ricerca e comunque ce l'ha con dei ritardi enormi rispetto al momento in cui vengono fatte determinate scoperte. Lo vediamo soprattutto ora con il Covid. Escono molto spesso quelli che chiamiamo in gergo i preprint e che sono articoli che ancora non sono stati sottoposti a revisione. Ma perché lo facciamo? Perché è importante in questo momento sapere subito quali sono i risultati delle ricerche, soprattutto appunto in situazioni come quella in cui ci troviamo adesso. In tutto questo gli autori che cosa fanno? Regalano i propri diritti agli editori pensando di non avere scelta. In realtà ce l'hanno la scelta ma non sono consapevoli, quindi quando voi firmate il cosiddetto copyright in realtà l'editore vi propone una cosa che dovreste essere voi invece a scrivere perché voi appunto state dando i vostri diritti di autore agli editori senza chiedere niente in cambio. I costi degli abbonamenti continuano a crescere ogni anno, si parla di un 1-2% anno come aumento. I costi delle APC non sono tracciati, quindi poche istituzioni sanno quanto i propri autori spendono per i modelli che abbiamo visto prima di tipo gold open access o addirittura ibridi e in più gli autori, i revisori e gli editori scientifici delle riviste non sono pagati. Probabilmente molti di voi sono stati autori ma tanti sono anche revisori e editori, editor di riviste scientifiche, sapete benissimo che nessuno ci paga per questo, però quello che facciamo è che regaliamo la materia prima ai grandi publisher che fanno grandissimi profitti perché appunto non pagano la materia prima. Questi sono numeri del 2010, quindi si parla ormai di 10 anni fa, in quell'anno Elsevier ha avuto un margine di profitto del 36% che all'epoca era addirittura più alto di Apple, Google o Amazon. Ma la domanda quindi che io vi faccio è perché? Perché stiamo spendendo questi soldi che sono soldi pubblici solo per chiudere i risultati delle ricerche dietro a delle riviste che hanno accesso limitato e che quindi non tutti possono leggere. Lo facciamo, lo sapete benissimo, perché abbiamo un sistema di valutazione scientifica che si basa proprio sul fatto che noi scriviamo articoli in queste riviste. Si basa quindi su numeri, sul numero di citazioni che noi riceviamo che influenzano alcuni indici, in particolare l'impact factor e l'H index. Quindi noi veniamo valutati sostanzialmente solo per i giornali dove noi scriviamo, nemmeno per i contenuti, per il giornale, per il nome della rivista. E in tutto questo ci stiamo perdendo un sacco di questioni. Che cosa ci perdiamo? Beh, ci perdiamo tutto il resto dell'attività di ricerca, ci perdiamo i risultati negativi che sono importantissimi. Pensate in questo momento quanto è importante sapere subito quali sono, per esempio, le cure che non portano a un successo, oppure altri risultati negativi di tantissime ricerche. Questi non vengono pubblicati. Ci perdiamo il software, ci portiamo anche tante soft skills che non vengono considerate, per esempio le skill relative al leadership, lo sviluppo di prodotti e soprattutto ci perdiamo i dati. Ma la domanda è, lo diceva Allegra prima, ma perché abbiamo bisogno dei dati e perché i ricercatori hanno bisogno di condividere i propri dati? Pensiamoci un attimo perché chiaramente un esperimento è riproducibile solo finché un altro laboratorio non cerca di riprodurlo. Beh, la riproducibilità degli esperimenti scientifici è ancora oggi parte integrante del metodo scientifico. Quindi i dati sono le prove che quello che noi abbiamo scritto in un articolo corrisponda, abbia una base solida. E come fanno gli altri altrimenti a credere a quello che noi scriviamo se non diamo le prove delle nostre tesi, dei nostri articoli? Questa è una frase molto interessante di Graham Steele che dice pubblicare la ricerca senza i dati è semplicemente fare pubblicità, non è fare scienza. Pensate quanto è vera questa frase. E pensate anche che pubblicare i dati non significa solamente renderli pubblici ma significa anche conservarli. Ci sono tante ricerche che ormai hanno dimostrato che, questa è una ricerca di settore, che ci indica che nel 2013 il 90% dei dati che erano stati raccolti negli anni 90 era andato perduto per sempre. Questo perché, scusate l'80%, questo perché? Perché i ricercatori conservano i loro dati in molti luoghi diversi ma non si preoccupano veramente della cosiddetta conservazione a lungo termine. Quindi si scrivono i dati su quaderni di laboratorio, si tengono i dati dentro a pennine o a floppy disk che poi diventano obsoleti, quindi non possiamo più accedere a questi dati oppure sono dentro a un computer che viene perso o comunque viene dismesso. E questi dati quindi forse esistono da qualche parte ma noi non siamo più in grado di accedere al loro contenuto. I dati poi sono importantissimi. Questa storia che vi racconto ora è una storia molto famosa. Si tratta della famosa teoria l'austerity che abbiamo imparato a conoscere qualche anno fa c'erano alcuni ricercatori che stavano scrivendo appunto di questa teoria. A un certo punto arriva un professore che chiede a un suo PhD come compito, come esercizio di riprodurre i grafici che erano presenti in questo famosissimo articolo. Lui ci prova, raccoglie i dati che sono tutti dati pubblici, quindi va a prendere questi dati, cerca di riprodurre questi grafici che dimostravano appunto questa teoria e non ci riesce. Non ci riesce in nessun modo, applica le formule, è sicuro di averle applicate nel modo corretto. Alla fine scrive un'email disperato perché deve consegnare questo esercizio. Scrive una mail agli autori che gli inviano un file Excel, dicono guarda questo qui è il file che noi abbiamo usato per costruire i grafici, guarda qui, parti da qui e vedi che cosa riesce a ottenere. Beh, si scoprirà che questo file Excel conteneva degli errori, proprio le formule erano state riportate in modo errato. Qui quindi chiaramente non c'è un errore diciamo fatto dagli autori, sì avevano fatto un errore nel foglio di calcolo, ma perché erano riusciti a pubblicare così tanto con un errore alla base nel calcolo? Perché non avevano condiviso fino in fondo i loro dati. E quindi da qui l'articolo viene ritrattato e questo PhD scrive invece molti articoli citando il fatto che aveva trovato appunto degli errori negli articoli che cosiddetti re-rejected. Questo succede anche ora, succede anche con il Covid. Abbiamo visto in questi mesi che molti articoli sono stati rigettati e ritirati. È molto importante che ci sia una discussione nella comunità scientifica e la discussione può avvenire solo se si hanno a disposizione tutte le informazioni. È chiaro che io posso andare nel dettaglio e discutere con i miei pari solo se ho a disposizione tutte le informazioni. Quindi il preprint in realtà oggi ha un valore notevole perché permette proprio quella discussione scientifica che si è un po' persa negli scorsi anni. Chiaramente la discussione non deve finire con il processo di revisione, quello che fanno le riviste. È chiaro che io non posso avere tutta la comunità che sempre discute, però a volte forse chiediamoci se due o tre revisori con tutto quello che comporta chiaramente tutte le falle che ci sono anche nel processo di revisione, se sono necessari e sufficienti per dire che quello che io ho scritto nell'articolo effettivamente è la verità. Abbiamo bisogno dei dati e abbiamo bisogno di una discussione tra pari. Quindi qui per dire che in realtà il fatto che un articolo venga rigettato è una cosa buona per la scienza perché vuol dire che la comunità riesce a convalidare oppure no i risultati, a fare un check molto dettagliato anche oltre quello che è il processo di revisione tra pari che avviene all'interno delle riviste. C'è in questo proposito un blog molto interessante che vi segnalo che si chiama Retraction Watch che ci lista e ci fa vedere quali sono tutti gli articoli che vengono rigettati. Per ogni articolo viene scritto un blog post, quindi si scopre qual è la storia che sta dietro agli articoli che vengono rigettati. È molto anche interessante perché contiene un sacco di dati. È molto interessante vedere che per alcuni articoli le citazioni aumentano dopo che l'articolo viene ritirato e questo sta un po' a valore un po' quello che io vi dicevo prima, cioè la discussione nella comunità scientifica è fondamentale. In questo caso ci accorgiamo che per molte questioni c'è una grossa discussione anche dopo che l'articolo viene ritirato. E tutto questo ci porta a parlare di Open Science. Che cos'è l'Open Science? Beh, non vi dico che cos'è ma vi dico che cosa non è. Cioè il contrario di Open Science non è Closed Science, quindi scienza chiusa, ma è Bad Science, quindi una scienza fatta proprio nel modo sbagliato. Come si fa a fare scienza nel modo corretto? Abbiamo visto che la discussione della comunità è fondamentale e quindi noi che cosa dobbiamo fare per permettere una discussione tanto più veritiera? Dobbiamo aprire ogni step, ogni passo del nostro ciclo della ricerca. Ci sono dei principi fondamentali che ci guidano la trasparenza, la riproducibilità, la collaborazione, una scienza più inclusiva, accessibile, accurata e aperta al riuso. È inutile che io debba ricominciare da capo ogni volta e raccogliere nuovi dati quando questi sono già stati raccolti da qualcun altro. Quindi riutilizziamo quello che c'è già. Non reinventiamo sempre la ruota. L'open science poi si basa su una questione fondamentale. Noi la ricerca la finanziamo soprattutto con i fondi pubblici e i soldi pubblici sono i soldi delle tasse dei cittadini e per questo motivo dovremmo avere come scelta etica quella di mettere immediatamente a disposizione della comunità quello che noi troviamo con le nostre ricerche. Molti enti finanziatori, tra cui quello che ha speso di più in questione di open science è la Commissione europea, molti appunto hanno fatto delle scelte ben precise verso l'open science. Che cosa significa fare open science? Significa dare accesso alla ricerca che viene finanziata con i fondi pubblici, quindi partire da risultati già raggiunti da altri, collaborare sempre di più, cercare di non duplicare gli sforzi, quindi essere più efficienti, cercare di fare in modo che l'innovazione sia più veloce. Pensate che è stato calcolato che un prodotto che si basa su risultati aperti viene immesso nel mercato con due anni di anticipo rispetto ai prodotti che si basano su quello che noi scriviamo negli articoli che poi chiudiamo dietro a degli abbonamenti. E poi c'è anche un aspetto fondamentale che si coinvolgono i cittadini e la società, quindi si aumenta anche la trasparenza del processo scientifico. La collaborazione è fondamentale, lo vediamo benissimo adesso e lo abbiamo visto e toccato con mano proprio all'inizio di questa pandemia, quando c'è stata una corsa all'apertura delle informazioni, quindi degli articoli soprattutto scientifici, che trattavano il virus SARS-CoV-2 e la malattia, quindi il Covid-19. Pensate che i più grandi editori hanno fatto annunci dove hanno detto non vi preoccupate, noi apriremo tutto quello che vi servirà per fare in modo che questa pandemia si riesca a contrastare nel modo più veloce possibile. Ma, chiaramente c'è sempre un ma, questa apertura non sarà per sempre, ma sarà adesso, diciamo, la data ultima di alcuni editori è il 31 gennaio del 2021. Prima era il 28 ottobre del 2020, insomma qui ci stanno dicendo va bene, noi vi apriamo tutto, però finché ci sarà un'emergenza, dopodiché richiuderemo di nuovo tutto dietro ai nostri abbonamenti e quello che è stato, è stato. Chiaramente chiedetevi perché lo stanno facendo, perché se aprire tutto aiuta a collaborare e a contrastare più velocemente la pandemia, non dobbiamo aprire veramente tutta la ricerca, perché ci sono malattie che forse possono essere contrastate con più tempo, fra tanti anni possono, quelle malattie, pensiamo al cancro o a qualsiasi altra malattia, possono aspettare? Perché non c'è una pandemia globale? Questa è la domanda che facciamo soprattutto agli editori. Ma dobbiamo anche pensare a questo fatto, lo sappiamo benissimo oggi, le decisioni dei cosiddetti policy maker si basano su dati, spesso su dati scientifici. Perché quindi è importante condividere questi dati, ma ancor più? Perché è importante saperli gestire nel modo corretto? Perché è importante che questi dati siano veritieri? Perché poi qualcuno su quei dati prenderà delle decisioni importanti per la comunità. abbiamo parlato di Open Science, ma che cosa vuol dire fare Open Science? Open Science è un termine ombrello che racchiude l'apertura di diversi passaggi della ricerca. Si parla di Open Data, di pubblicazioni aperte, di metodologie, software, protocolli e workflow che vengono aperti. Si parla anche di Open Peer Review, si parla di Citizen Science, tutto questo si fa tenendo ben presente che c'è un ambiente dove si apre la scienza che non può fare a meno di integrità della ricerca, non può fare a meno di infrastrutture, Allegra ce ne ha citate parecchie durante la sua introduzione, e si parla soprattutto di cambiare i meccanismi di valutazione della ricerca. L'Open Access, che probabilmente molti di voi hanno già sentito come termine, è uno dei pilastri della scienza aperta. Si parla di Open Access alle pubblicazioni o ai dati, per molti enti finanziatori anche che ve lo richiedono. E che cosa vuol dire? Significa mettere a disposizione in modo libero e senza restrizioni online i risultati della ricerca, quindi i testi e i dati, senza costi per l'utente finale. Vorrei sottolineare che Open Access non vuol dire pagare per pubblicare. Abbiamo visto che esiste un modello di business sui quali i publisher scientifici basano i loro introiti, che si chiama Gold Open Access. Ma l'Open Access in realtà vuol dire altro, vuol dire mettere a disposizione una copia del vostro articolo, per esempio, su una piattaforma ben specifica. Qual è questa piattaforma? È soprattutto quello che chiamiamo repository. Un repository può essere di vario tipo. È sostanzialmente una piattaforma che mi dà la possibilità di caricare un oggetto digitale e renderlo anche accessibile al pubblico. E soprattutto ha una politica di archiviazione a lungo termine ben definita, quindi mi permette non solo di condividere, ma anche di conservare. Ci sono vari tipi di repository, sicuramente conoscerete i repository istituzionali, quindi della vostra istituzione, tematici, di letteratura, di dati, oppure di tipo catch-all come per esempio Zenodo. Perché ci servono i repository? Lo abbiamo detto prima, per conservare da una parte, quindi io carico su una piattaforma che conserverà a lungo termine il mio contenuto, perché ci sono delle persone che si occupano di curare il contenuto, in questo caso per esempio in Italia questo viene fatto per i repository istituzionali, dai bibliotecari, dai data i librarians, oppure ci sono comunità scientifiche molto solidi che hanno repository per esempio di dati di tipo tematico che si occupano di conservare e di curare i dati. E poi mi permette, d'altra parte, di condividere il mio contenuto con chi voglio nel momento in cui voglio io. Quindi posso anche mettere delle restrizioni, per esempio, sull'apertura del mio dataset in un certo momento, oppure anche delle restrizioni dal punto di vista di chi può accedere ai miei dati. In tutto questo è molto importante gestire correttamente i dati della ricerca. E perché? Beh, perché gestire i dati della ricerca significa avere più visibilità e impatto, significa permettere ad altri di riutilizzare i miei risultati, ma il primo riutilizzatore sarò sicuramente io quando continuerò la mia ricerca, a partire da quelle che ho fatto nel passato. Mi permette di essere più trasparente e anche di fornire dati più affidabili. Permette ad altri di riprodurre la mia ricerca e quindi abilita quello che è la verifica delle mie tesi. E poi soprattutto mi aiuta a collaborare con altri ricercatori. I dati, secondo non solo la Commissione europea, ma ad altri entri finanziatori, ormai questo è una cosa che è abbastanza sodata, devono aderire a quelli che sono i principi FAIR. FAIR non vuol dire che voi dovete aprire i vostri dati, ma vuol dire che li dovete rendere trovabili, quindi chiunque deve poterli trovare con una ricerca semplice, e in questo modo può anche citarvi. Devono essere accessibili per almeno dieci anni, quindi questo non vuol dire che devono essere aperti, ma deve essere chiaro dove sono i dati e chi può avere accesso a questi dati. Devono essere interoperabili, vuol dire che devono essere facilmente integrabili con altri dati, devono essere leggibili dalle macchine, oppure devono essere collegati ad altri risultati della ricerca, per esempio ad un articolo. E poi l'aspetto fondamentale è che tutto questo noi lo facciamo perché i dati devono essere riutilizzabili per un'analisi ulteriore oppure addirittura per nuove ricerche. Ma quanto ci costa? Quanto ci costa non rendere i dati fair? Ma quanto ci costa non rendere i dati fair? Questo è uno studio che è stato commissionato dalla Commissione Europea l'anno scorso e scopriamo che il costo che abbiamo, che dobbiamo sostenere per esempio per la non gestione dei dati nel modo corretto è altissimo. Si parla di un costo diretto di 10 miliardi di euro ogni anno in Europa più altri 16 miliardi di costi indiretti. Questo semplicemente per lasciare le cose come stanno, quindi per non gestire, secondo i principi fair, i nostri dati. La Commissione Europea ha fatto molte cose in questo periodo di pandemia per cercare di rendere più facile e efficiente la condivisione dei dati relativi a Covid. Io vi cito un paio di iniziative che sono legate alle infrastrutture che Allegra ci ha presentato. La prima è quella di Open Air, Open Air è l'infrastruttura per l'open access che è stata finanziata, ormai è finanziata da 10 anni dalla Commissione Europea e si occupa dei risultati della ricerca. Open Air ha creato una comunità in Zenodo che è il repository che Open Air stesso ha sviluppato con il CERN dove chiunque può depositare i risultati della ricerca. Questa community a oggi ha avuto più di mille inserimenti, questa community è curata da un team di Open Air, quindi non tutte le cose che vengono inserite in Zenodo vanno a finire qui dentro, è un posto dove voi potete andare e caricare un risultato della ricerca che pensate sia, diciamo, si possa utilizzare per il contrasto a questa pandemia. E poi ha creato quello che chiamiamo Open Air COVID-19 Gateway. È un posto dove Open Air raccoglie tutti i risultati della ricerca, si parla di pubblicazioni, dati, software e altri risultati, e anche altre risorse molto utili per la ricerca in questo ambito. E ad oggi questo unico punto di accesso, diciamo, raccoglie più di 100.000 pubblicazioni, abbiamo più di 5.000 dataset, 440 cosiddetti codici, quindi software, e altri risultati della ricerca. Ci sono tutti i progetti collegati a COVID-19 che possono vedere qui i loro risultati. E poi c'è un'altra iniziativa che è quella della Research Data Alliance. La Research Data Alliance è una comunità di esperti che lavorano con i dati, ricercatori, ma non solo, di tutti i settori disciplinari, e è un forum di discussione dove si cercano soluzioni alle barriere per la condivisione dei dati in tutti i settori della scienza. Quindi non solo il settore health, ci sono tutti i settori che sono rappresentati. Funziona con dei gruppi di lavoro spontanei che nascono per, diciamo, per riuscire a trovare una soluzione a dei problemi ben specifici. Questo gruppo di lavoro in particolare è nato all'inizio della pandemia per dare delle linee guida ai ricercatori, ma non solo, per la condivisione dei dati. Ha prodotto alla fine di giugno delle raccomandazioni su tipologie specifiche di dati. Lo vedremo poi più avanti negli eventi che vi proporremo nei prossimi mesi. Andremo nel dettaglio di queste raccomandazioni e anche di altre linee guida. ha recentemente rilasciato anche delle linee guida per i policymaker nel settore della salute e, diciamo, ha prodotto tutta una serie di output che vi invito ad andare a vedere. Io vi lascio con questa slide dove sono raccolti tutta una serie di scuse che i ricercatori hanno prodotto negli ultimi anni alla domanda, diciamo, ma perché non condividi i tuoi dati? Una che vorrei farvi notare in particolar modo è questa scusa che mi è stata riportata di persona a un direttore di un istituto importante del CNR al quale io spiegavo perché doveva condividere i suoi dati. a un certo punto questa persona mi ha fermato e mi ha detto guardi, a me non interessa sapere come fare a condividere i miei dati, io voglio solo sapere come fare per usare i dati degli altri. Io vi lascio quindi con questa slide, questa schermata di scuse e passo a questo punto la parola a Graziano per la sua presentazione. Grazie. Grazie. Allora prova a condividere il mio schermo. Lo vedete? Mi sentite? Ti sentiamo ma non vediamo lo schermo. Ecco, lo condiviso, vediamo un attimo. Condividi il schermo. Va meglio? Sì, perfetto, grazie. Bene, ringrazio Emma. Io tenterò di affrontare un po' il discorso generale che ha fatto Emma sul data sharing, focalizzandomi un po' di più sugli aspetti legati a questa tragica pandemia. E diciamo, vedendo anche gli aspetti potenzialmente positivi, di fatto questa pandemia rappresenta una enorme sfida per tutti quanti noi, che può diventare un'opportunità molto importante per farci iniziare a percorrere una strada in tempi molto più rapidi e con maggiore efficienza di quanto non sia stato fatto finora. perché effettivamente in quest'ambito dell'open science e open data abbiamo moltissimo cammino da fare. Ora poi vi dirò anche quelle che sono le mie riflessioni sulle problematiche e sulle motivazioni che di fatto rendono questo percorso tutt'ora molto difficile, molto complicato. Volevo giusto iniziare dandovi qualche informazione di carattere generale su quelle che sono le iniziative più importanti in quest'ambito. La prima che volevo citare è che spero conosciate la cosiddetta European Open Science Cloud, che è un'iniziativa promossa fin dal 2016 della Commissione europea per valorizzare uno sviluppo tecnologico molto importante, che è appunto lo sviluppo dato dalla possibilità di utilizzare tecnologia cloud, che si presta ovviamente molto bene come infrastruttura generale per condividere in modo trasparente e senza alcun tipo di barriere servizi per storage, per il calcolo, per la gestione, per i dati di ricerca, in tantissimi ambiti. Quindi questa è un'iniziativa molto importante, è un'infrastruttura di grande respiro che si sta sviluppando a livello europeo, che vede numerosissimi progetti europei finanziati, uno di questi è Osk Pillar, che credo sia coinvolto nell'organizzazione di queste iniziative, un altro in cui siamo coinvolti, in cui credo anche il prossimo relatore, Sara Casati, coinvolte, Osk Life. Quindi ci sono tutta una serie di iniziative che in qualche modo sono nel solco di questa grande iniziativa che è l'European Open Science Cloud, che serve a costruire un framework europeo per questa finalità. L'altro aspetto che diciamo Emma ha già in qualche modo citato è a parte tutto questo noi dobbiamo avere, quindi a parte, come dire, gli aspetti infrastrutturali, è importante avere delle linee guida costituiti ovviamente dal vice di esperti nei diversi settori che in qualche modo ci guidino a rendere i nostri dati, come dire, compliant con gli standard internazionali e che, diciamo, ne facilitino la cosiddetta fairificazione. E' appunto l'iniziativa Research Data Alliance, RDA, che è un'iniziativa, anche questa, che è lanciata nel 2013, che ha la missione di appunto costruire tutto quello che serve per la condivisione aperta dei dati. E ovviamente RDA ha avuto un ruolo molto importante quando è partita la pandemia, perché si è capito immediatamente che uno sforzo importante per condividere tutti i tipi di dati che vi avvenivano prodotti, quindi clinici, molecolari, bibliografici, di know-how farmacologici e così via, era importantissimo per, diciamo, sconfiggere più rapidamente questa pandemia. Insomma, agire con un'unione di intenti su scala globale, mondiale è, diciamo, un modo assolutamente fondamentale per avere una possibilità di arrivare prima alla fine, diciamo, di questa complicata situazione. E in tutto questo, diciamo, si colloca il ruolo delle infrastrutture di ricerca, quindi ce ne sono diverse coinvolte in questa situazione di pandemia, una delle quali è l'XIR, che è l'infrastruttura di ricerca per le scienze della vita. Quindi si occupa sostanzialmente di fornire servizi infrastrutturali per i dati biologici. Da un punto di vista formale, l'XIR è una organizzazione intergovernativa che formalmente è stabilita nel 2016 nell'ambito del framework ESFRI, che sta per European Research Infrastructure Forum, che ha lo scopo di, come dire, mettere sul tavolo, mettere a fattor comune risorse bioinformatiche a servizio delle scienze della vita. Che cosa intendiamo per risorse bioinformatiche? Quindi intendiamo basi di dati, strumenti, software, materiale didattico, best practice, cioè metodologia allo stato dell'arte, capacità di calcolo e di storage, in modo da dare ai ricercatori gli strumenti per poter ottimizzare il loro contributo allo sviluppo della ricerca. Quindi l'obiettivo di l'XIR è appunto quello di coordinare tutte queste risorse su scala europea e internazionale, in modo da ottimizzarle, in modo da, come si diceva prima, non reinventare la ruota, quindi usare al meglio ciò che esiste e costruire su quanto esiste per accrescerne le potenzialità di utilizzo da parte di tutti i ricercatori. E quindi questo è un compito molto importante che ha ricadute le più varie, come vedete in questa slide, sull'ambiente, sulla biomedicina, sull'agricoltura e così via. Come è organizzata l'XIR a livello europeo? È molto semplicemente organizzata in cinque piattaforme, che quindi sono le entità che erogano i servizi, e queste cinque piattaforme sono appunto compute, cioè capacità di calcolo e storage, tools, strumenti per analizzare i dati e conferire conoscenza biologica, i dati stessi, che sono una risorsa importantissima, la piattaforma di interoperability, che quindi fornisce gli strumenti per la standardizzazione, l'interoperabilità, per la riproducibilità, ad esempio. Ovviamente un dato per poter essere scambiato deve essere formattato in un dato, che non solo possa essere, diciamo, letto correttamente da un computer, ma a livello internazionale tutti devono usare lo stesso tipo di dadi formato in modo da poterselo scambiare. E questo è un aspetto, diciamo, molto importante. Altrimenti i dati si creano delle barriere che impediscono, come dire, l'utilizzabilità su scala globale dei dati. Lo stesso vale anche, per esempio, per i software. Moltissimi software bioinformatici sono difficilissime da riprodurre in altri laboratori, perché magari uno usa un computer diverso, con un sistema operativo diverso e così via. E quindi anche su questo, con, diciamo, soluzioni come i container, i docker e così via, si fanno degli sforzi molto importanti per rendere tutto questo, come dire, il più possibile interoperabile. Ovviamente, altro, quinta piattaforma molto importante, il training, perché bisogna fornire una base di conoscenza a tutti i ricercatori in modo da poter utilizzare al meglio le risorse che vengono offerte. Ma queste risorse a che cosa servono? Servono a comunità di ricercatori che operano negli ambiti più diversi. Questa è la ragione nell'organizzazione di Elixir, diciamo, al di fuori delle piattaforme, ci sono tutte le cosiddette thematic community, che quindi sono gruppi di ricercatori che hanno un focus di ricerca comune e che quindi cercano di fare l'exploiting di queste piattaforme nel modo più congeniale a quelle che sono le loro esigenze. E quindi qui vedete tutte le piattaforme che al momento sono attive in Elixir, che vanno dal plant science, metabolomica, 3D bioinfo, quindi strutture tridimensionali, proteomica, malattie rare, dati umani e così via. Questo è molto importante perché le piattaforme utilizzando, scusate, le community utilizzando le piattaforme, a loro volta forniscono un feedback di utilizzo che in qualche modo ottimizza e specializza i servizi che queste piattaforme sono in grado di offrire. Per quanto riguarda l'organizzazione del nodo italiano, come potete notare, Elixir Italia è coordinata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e vede fra i partecipanti numerosissime istituzioni di alto profilo a livello nazionale che sono università, varie università, enti di ricerca, ma anche i cosiddetti provider tecnologici che quindi hanno l'expertise per fornire supporto tecnologico, quindi ad esempio l'Enea, il Cineca, gli NFN, il CRS4 e il GAR. In questo modo si tenta di mettere a fattor comune sia il know-how, come dire, biologico, bioinformatico, che il know-how tecnologico per, come dire, creare un'infrastruttura di ricerca il più completa e efficiente possibile. Da un punto di vista formale è costituita in forma di una Joint Research Unit che è un accordo formale sottoscritto dai legali rappresentanti delle istituzioni partecipate. Allora naturalmente tutte le infrastrutture, ovviamente comprese l'XIR, nel momento in cui è scoppiata questa pandemia, si sono posti il problema di mettere in campo quelle che potevano essere le azioni più rilevanti per combattere questa pandemia. Ma una delle sfide più importanti è quindi condividere dati e conoscenze in un modo coordinato. Condividere dati e conoscenze. E questo veramente è un compito ciclopico. Io penso che un, come dire, sottoprodotto che ci lascerà questa esperienza che purtroppo durerà ancora alcuni mesi è che capiremo finalmente l'importanza di questa azione. Poi su questo vi darò un ulteriore commento e vi dirò quale, a mio parere, è un dei problemi principali che funge da, come dire, da barriera al fatto che questo possa realmente partire. Ma in ogni caso, diciamo, la Commissione Europea ha, come dire, alimentato questi sforzi ed in particolare nell'ambito dell'XIR è stato sviluppato un COVID-19 Data Portal che è appunto un punto di accesso che serve a mettere e rendere visibili tutte le risorse possibili che via via vengono realizzate dai membri per, come dire, facilitare lo scambio, la condivisione di strumenti, di dati per accelerare la ricerca nell'ambito dell'infezione da coronavirus. Visto che ora parleremo di quali sono i dati che vogliamo condividere, mi consentirete una rapidissima digressione su, diciamo, qual è il ciclo di vita del coronavirus. Così abbiamo un'idea di quello che accade. Come sapete, questo è un virus a RNA positivo e tra l'altro questo fatto che viene usato l'RNA positivo come dire, alimentato la fake recentemente diffusa dai media di un tizio tra l'altro pugliese che usava un affare a cationi positivi per respingere i virus positivi che era il presidente di Nova Puglia che ora dopo aver detto Stefandoni è dimesso. Quindi diciamo abbiamo che questo virus un virus RNA positivo colonizza si lega alle cellule che infetta nel momento in cui si lega inietta in cellula il suo RNA genomico questo RNA genomico può esprimere due diversi set di proteine. Un primo set di proteine che è quello espresso diciamo dalle cosiddette poliproteine A e AB che diciamo sono costituiscono l'apparato per la proliferazione del virus quindi ad esempio la RNA polimerasi RNA dipendente che è capace di creare un'altra copia del genoma e una volta che questo apparato viene costruito il virus si può replicare perché vengono come dire prodotti gli RNA messaggeri che codificano per le cosiddette proteine strutturali come qui vedete in questa slide che sono S e MN quelle principali queste proteine strutturali sono quelle che costituiscono il capsid che quindi si ricompone incorpora una nuova molecola del genoma virale che questo GRNA più e quindi va a come dire a colonizzare altri lidi a quindi infettare altre cellule quindi questo è il ciclo vitale e quindi noi possiamo raccogliere dati come ha detto prima Allegra sulla sequenza del genoma virale perché ovviamente è chiaro che questo genoma virale si è adattato all'ospite per poterlo infettare ai messaggeri virali che vedete si chiamano SGRNA perché sono RNA discontinui detti anche subgenomici possiamo raccogliere dati relativamente al profilo di espressione del genoma dell'ospite dati relativi alla struttura delle proteine e così via quindi in quest'altra slide potete avere un'idea della grande varietà di dati che possiamo raccogliere ovviamente a parte i dati ma di questo poi magari vi dirà un accenno Sara ci sono anche i campioni biologici che andrebbero racconti quindi vedete il primo tipo di dato sono i risultati dei cosiddetti tamponi quindi questi tamponi hanno un risultato che è il positivo o negativo ma se si fa un tampone molecolare per real time abbiamo anche un numero che ci dà l'idea del grado di infezione e poi diciamo altri dati che riguardano come dirgli l'apporto sperimentale poi naturalmente abbiamo le sequenze del genoma virale e del trascrittoma del virus i dati di espressione dell'ospite le proteine espresse dal virus che ovviamente possono come dire mutare in ragione del mutazione che subisce il genoma virale le strutture tridimensionali i bersagli molecolari per i farmaci e moltissimi altri ad esempio i dati di imaging che ad esempio danno un'idea dei danni che i polmoni hanno in seguito alle famose polmoniti bilaterali i dati clinici che sono correlati all'infezione di cui poi parleremo tutti questi dati devono essere come dire integrati per produrre conoscenza biologica rilevante faccio un esempio per dire che un ceppo virale sia più o meno virulento bene se non l'associamo a un dato clinico asintomatico sintomatico sottoposta terapia intensiva di fatto diventa impossibile ora per quanto quello che vi sto per dire vi sembrerà sorprendente ad oggi non c'è nessun sistema standard per creare questa associazione e su questo stiamo ancora purtroppo tremendamente indietro comunque su questo magari ci torneremo tra un momento questo giusto per darvi l'idea dell'aspetto che ha il covid-19 data portal questo è il portale europeo che è stato sviluppato che come vedete ha tutta una serie di dati che vengono riportati e sempre all'interno di elixir ogni stato membro sta realizzando alcuni l'hanno già fatto un covid-19 portal nazionale anche noi in Italia stiamo realizzando un covid-19 data portal per l'Italia il flusso diciamo dell'informazione è quello che qui viene in qualche modo rappresentato quindi noi abbiamo dei dati dei pazienti che transitano sia attraverso i laboratori diagnostici che attraverso le strutture ospedaliere questi dati vengono raccolti diciamo in vari tipi di repository che sono specifici per i diversi centri che erogano questi dati che poi confluiscono in un sistema diciamo che dovrebbe essere unitario che poi viene diventa visibile dal portale covid-19 usando naturalmente il framework che dicevamo prima EOSC Open Science Cloud giusto per darvi un'idea questo è il portale svedese e perché è importante fare questo tipo di sforzo perché mai in un momento come questo è importante ottimizzare gli sforzi evitare di reinventare la ruota razionalizzare e coordinare tutti gli sforzi che a livello locale regionale si fanno in modo da come dire coordinare questi sforzi massimizzando se possibile l'efficienza quindi evitando la frammentazione delle azioni che di fatto ha un impatto terribile sull'efficienza poi e sui risultati che otteniamo ma anche sui tempi che poi sono necessari per raggiungere risultati importanti e quindi diciamo sempre in questo solco IOSC ha creato una sorta di task force per come dire sviluppare uno sforzo europeo e internazionale per coordinare le azioni per integrare questi dati e è stato costituito un gruppo di contatto italiano all'interno della piattaforma IOSC Covid-19 che è come vedete costituito dal professor Giorgio Rossi che è membro dell'IOSC Governing Board dal dottor Zambelli che è il Technical Manager di Elixir Italia e dal dottoressa Minghetti e dal dottor Grigioni dell'Istituto Superiore di Sanità questo naturalmente per cercare di fare uno sforzo organico a livello nazionale integrato con quanto si sta tentando di fare a livello europeo e internazionale ma quali sono i tipi di dati che noi come dire stiamo in qualche modo con grandi difficoltà cercando di integrare supponiamo di avere dei dati molecolari per esempio sull'espressione dell'ospite o sul genoma virale sulle mutazioni qua vedete un pannello molto semplice che noi abbiamo proposto all'Istituto Superiore di Sanità per sviluppare un form che dovrebbe essere compilato per integrare questi dati quindi ovviamente l'età il sesso del paziente se ha comorbidità le condizioni di salute se è immunocompromesso e così via e poi vedete si ha tutta una serie di sintomi febbre tosse difficoltà respiratorie e così via naturalmente questo è un dato un formo molto semplice ma non è necessario inventare nulla perché nell'organizzazione mondiale della sanità c'è uno sforzo che si chiama ISARIC che di fatto stabilisce tutta una serie di informazioni quindi il minimum set di informazioni che vanno raccolte e anche tutte le altre informazioni accessorie in un formato standard che si chiama ISARIC anche su questo per esempio abbiamo che in questo database sviluppato da ISARIC ci sono alcune decine di migliaia di campioni depositati ma a quasi nessuno di essi è associato sono associati i dati molecolari del virus ISARIC distribuisce anche i form che andrebbero compilati per diciamo ottenere questo tipo di informazioni ora diciamo qual è la situazione italiana la situazione italiana è la seguente come sapete in Italia la sanità è regionalizzata quindi ogni regione più o meno si organizza in modo autonomo seguendo standard differenti e all'interno della stessa regione lo sforzo è ulteriormente frammentato ora diciamo riflettendo sul perché ancora non come dire non abbiamo questa integrazione bene io la risposta già ve la posso dare scusatemi è il perché che non è prevista in ambito clinico la presenza del data scientist cioè di una figura di una risorsa umana che in qualche modo coadiuvi i clinici e il personale impegnato nei laboratori a integrare questi dati perché tutte le volte che ho tentato di parlare con i clinici la risposta è sempre stata la medesima noi siamo diciamo in una situazione drammatica dobbiamo fare i tamponi non riusciamo a farli diciamo a fare i numeri di tamponi che ci arrivano e quindi siamo in ritardo figuriamoci se abbiamo il tempo di inserire questi dati in realtà come sapete loro inseriscono diciamo i dati ma sono proprio i dati minimi che rendono di fatto inutilizzabile qualunque tipo di analisi integrativa che quindi sono ad esempio il sesso l'età il fatto se uno ha sintomi o no ma sono i dati che richiede la piattaforma dell'istituto superiore di sanità ma ancora non c'è uno sforzo organico per fare tutto questo e per farlo in Italia tutti allo stesso modo vi dirò di più a questo consorzio ISARIC partecipano alcuni ospedali italiani ma ad esempio non partecipa l'istituto superiore di sanità non partecipa allo spallanzani e così via cioè ognuno fa un po' come gli pare e questo diciamo e rende di fatto impossibile al momento salvo che non ci sia un'azione molto importante diciamo che io dico top down per cercare di mettere in ordine questa giungla che abbiamo al momento naturalmente difficile dicere che questo accada prima della fine della seconda ondata speriamo di non aspettare la quarta ondata quindi qual è il compito che ci proponiamo di assolvere di compiere per avere una ricerca open aperta nel sforzo per contrastare la pandemia quindi identificare le sorgenti dei dati generati dalla ricerca ovviamente questo è quello che stiamo cercando di fare con elixir e continueremo a farlo naturalmente quindi identificare ricerche in corso in modo da intercettare i dati che vengono prodotti sollecitare i ricercatori a depositarli secondo gli standard fail offrire supporto alla deposizione di questi dati secondo questi standard formulare dei modelli per integrazione di metadati un po' tipo quella scheda che vi ho mostrato prima se tutti accettiamo un modello minimo poi diventa molto più semplice condividere in modo fruttuoso ed effettivo questi dati quindi creare un catalogo unico di questi metadati e ovviamente integrare tutto questo a livello nazionale e internazionale nell'ambito diciamo dell'infrastruttura EOSC Covid-19 quindi in questo modo dovremmo riuscire a come dire rendere a far dialogare tra loro l'enormità di dati clinici che vengono fuori nelle strutture cliniche con i dati molecolari che vengono fuori sia dalle strutture cliniche che dalle strutture di ricerca naturalmente tutto questo va fatto secondo le regole e quindi va fatto considerando in funzione del tipo di progetto di ricerca il cosiddetto DPA quindi Data Protection Impact Assessment cercando di rispettare le regole del GDPR per diciamo che stabiliscono le regole di privacy che naturalmente sono un po' attenuate nel caso di ricerca scientifica tant'è in questa situazione di pandemia e oltretutto questo è molto importante la condivisione dei dati questo lo accennava Emma su un discorso più generale per fare un fact checking perché se i dati tutti li possono in qualche modo controllare di fatto ci è un'assicurazione sulla integrità e correttezza dei dati perché sia gli scienziati che poi la società in modo corretto in qualche modo hanno uno strumento potentissimo per valutare se questo che viene fuori è di fatto supportato dalla sperimentazione quindi da un metodo scientifico rigoroso oppure no giusto per darvi un'idea del mondo in cui viviamo vi ho fatto un po' alcuni snapshot di quello che ve leggete sui giornali un po' estrapolati dal tempo c'è una dichiarazione di Zaia ho fatto sequenziare il ceppo serbo è più virulento più o meno contemporaneamente veniva fuori la famosa intervista di Zangrillo che il virus era clinicamente morto oppure vedete c'è un altro studio del campus biomedico di Roma che all'epoca diceva che ecco perché la pandemia si è attenuata perché il virus perde pezzi tutte queste opinioni nessuna di queste di fatto è supportato da dati scientifici come dire poi realmente validati anche perché anche se alcune di queste osservazioni sono stati oggetto di pubblicazione su preprint poi di fatto non hanno ricevuto alcuna poi validazione successiva però il fatto che fossero come dire disponibili ha consentito i ricercatori di dire guardate che state prendendo una cantonata ad esempio nella mia limitatissima esperienza quando ho letto la storia che il virus perdeva pezzi siamo andati a guardare e abbiamo visto che era un'osservazione del tutto irrilevante perché era giusto una mutazione relativa a una delezione in un numero trascurabile di ceppi virali che tra l'altro in Italia non era presente quindi naturalmente questo di fatto indeboliva moltissimo la conclusione diciamo che su questo giocano due fattori da un lato i giornalisti che vogliono vendere la notizia quindi più viene pompata più la notizia si vende e dall'altro diciamo un po' l'autocelebrazione dei ricercatori che un po' diciamo in qualche modo gli piace essere come dire considerati grandi scopritori di grandi cose ma quello che potete vedere per esempio una delle tipiche domande che fa un giornalista il virus muta è certo che muta noi analizzando tutti i genomi finora disponibili di SARS-CoV-2 abbiamo trovato 28.300 diverse mutazioni però la maggior parte di queste come vedete in questo plot è presente in un solo genoma quindi noi abbiamo più di 100.000 genomi analizzati uno su 100.000 ha un gran numero di questi hanno un'unica mutazione su un unico genoma quindi da un punto di vista epidemiologico capirete che è assolutamente irrilevante mentre se andate a guardare le mutazioni presenti in almeno l'uno per cento dei genomi queste da 28.000 diventano 72 e quindi queste magari sono più interessanti e potrebbero essere come dire utili oggetto di studio per capire se hanno in qualche modo alterato la potogeneicità o l'infettività del virus un altro aspetto molto importante quindi torniamo un po' a quello che viviamo è proprio per questa disorganizzazione a livello locale regionale nazionale internazionale abbiamo che le conoscenze che abbiamo sono come dire molto disomogenee come diceva prima Allegra noi abbiamo un grandissimo numero di genomi vedete il top ranking è United Kingdom che ne ha sequenziati tantissimi guardate qua la scala è logaritmica mentre diciamo altri paesi fra cui l'Italia ne hanno fatti molto meno naturalmente queste differenze non sono dovute all'incidenza della pandemia cioè l'Italia ha più o meno lo stesso numero di casi positivi che il Regno Unito però naturalmente abbiamo un paio di ordini di grandezza differenti rispetto ai genomi sequenziati per capire e per fare quella che si chiama la sorveglianza molecolare dell'evoluzione del virus che cosa quindi giusto per darvi l'idea di cosa accade in Italia ad oggi abbiamo oltre 190.000 genomi virali questo dato è aggiornato al 10 di novembre e qui in questa gradatoria vedete in scala questa volta non logaritmica quanti sono i genomi italiani per 100 casi quindi in questo caso vedete al primo posto è la Nuova Zelanda l'Australia l'Islanda e così via quindi anche qui non ci distinguiamo per diciamo grande efficienza per quanto riguarda l'Italia ecco Allegra vi citava un numero più basso in realtà diciamo il portale Open Science per eccellenza è GenBank ma la maggior parte dei genomi pubblici non sono disponibili su GenBank ma su un'altra piattaforma che si chiama GSAID che pone tutta una serie di restrizioni e quindi in totale in realtà ce ne sono quasi 900 di questi 900 diciamo il mio gruppo di ricerca ne ha prodotti oltre 100 tra Puglia e Basilicata il protocollo che abbiamo seguito noi è un protocollo cosiddetto metagenomico nel senso che sequenzia sia l'RNA virale che l'RNA dell'ospite come potete vedere di questi 891 abbiamo solo per 406 abbiamo almeno un patient status cioè se è asintomatico sintomatico o in terapia intensiva e in ogni caso quello che emerge chiaramente è che tutti questi genomi italiani appartengono a un unico diciamo ceppo virale almeno per quelle che sono le nostre conclusioni altro argomento importante questi genomi quando sono stati come dire quando i campioni relativi sono stati raccolti questo è diciamo un grafico che riporta il numero di genomi per data di isolamento e come potete vedere è stato fatto uno sforzo molto importante a seguito della pandemia prima ondata marzo-aprile ora un po' diciamo il numero di genomi disponibili è un po' più limitato anche se sarebbe molto importante come dicevo per la sorveglianza molecolare continuare a seguire l'evoluzione del genoma virale nel tempo perché questo come potete immaginare ha implicazioni rilevanti per valutare l'efficacia dei vaccini ed eventualmente aggiornarli ovviamente c'è un drop diciamo in tempi più recenti perché dal momento dell'isolamento al momento in cui il genoma viene poi depositato almeno nel primo repository che è G-SAID ci vuole almeno circa un mese nella migliore delle ipotesi questa è la situazione italiana che vedete ancora peggio perché abbiamo molti genomi che sono stati la maggior parte per la prima pandemia in pratica c'è stato un grosso contributo l'ha dato un progetto cariplo per cui sono stati sequenziati oltre 300 genomi in Lombardia ma come potete vedere della seconda andata abbiamo poco o niente e quindi anche qui sarebbe importante perché questi dati condivisi siano poi utili avere dei dati che siano omogenei nel tempo e nello spazio quindi uno dovrebbe campionare diverse località in tempi differenti allora per concludere qual è diciamo in sintesi quello che può essere il contributo di Elixir a fronteggiare questa pandemia e appunto mettere a disposizione for free alla comunità scientifica nazionale piattaforme di calcolo e storage allo stato dell'arte a tutti i ricercatori quindi sono account di calcolo che sono anche come dire vestiti non solo tempo di calcolo ma un ambiente di calcolo dotato di tutta una serie di programmi e basi di dati utili all'analisi di questi dati abbiamo anche sviluppato degli strumenti per analizzare questi dati e l'ultimo nato ad esempio che si chiama Corgat serve ad annotare il genoma virale abbiamo già dei sistemi basati su un sistema workflow molto comune che si chiama Galaxy in ambiente cloud per fare l'analisi dei dati anche in modo compliant alle regole GDR forniamo assistenza ai gruppi di ricerca per rendere questi dati fair e interoperabili e ovviamente su questo magari Allegra potrà commentare in seguito sviluppiamo attività di training per informare i ricercatori e dargli tutti gli elementi rilevanti per utilizzare sia le risorse che i dati che vengono resi disponibili spero di non avervi agnonati troppo e vi ringrazio per l'attenzione allora direi che possiamo passare alla alla fase di della della discussione Allegra ci sei sì ci sono ecco allora io intanto se vuoi posso iniziare a condividere lo schermo con i risultati che stanno arrivando nel nel Mentimeter e nel frattempo è arrivata Sara Casati quindi se vogliamo procedere con le domande che erano arrivate ciao a tutte a tutti non posso farmi vedere perché purtroppo viaggio in ADSL oggi quindi lenta non c'è problema Sara devo accendere così la luce Allegra vai dunque scusate sto aprendo forse vogliamo condividerli Emma sì 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 sto condividendo lo schermo un secondo e questi sono i risultati diciamo i commenti che sono arrivati al Mentimeter ok beh aiuto sparito sì mai aspetta che sto cercando di ok allora beh insomma mi sembra che ci siano tanti spunti qui vediamo alcuni vediamo qui un commento semplicemente le ragioni sulle barriere sono semplicemente organizzative informatiche e in questo senso i tutorial che stiamo organizzando avrebbero un po' lo scopo di cercare di creare un supporto proprio per superare questo tipo di barriere vedo qui mancanza di tempo il punto è che secondo me la mancanza di tempo è anche un po' associata a una mancanza del senso della priorità che queste che la condivisione dei dati e quindi caricare le sequenze o piuttosto insomma darsi da fare per condividere i propri dati rappresenta cioè quando qualora la condivisione diventasse una vera priorità perché se ne comprendesse fino in fondo l'importanza naturalmente il tempo in qualche modo verrebbe trovato ok mancano gli standard la volontà e il tempo di condividere dati ecco questo mi sembra diciamo questo mi risuona molto e però di nuovo la volontà e il tempo sono figli appunto del comprendere l'importanza della condivisione mancano gli standard in parte mancano gli standard per esempio nel caso della condivisione delle sequenze gli standard ci sono io aggiungerei in molti casi non si conoscono gli standard e di nuovo questo è una delle ragioni per cui c'è questa iniziativa e forse dovrebbero esserne messe appunto molte altre insomma per esempio il training è una una di quelle iniziative che permette di far conoscere gli standard organizzare strutturare e poi far conoscere gli standard l'ignoranza qui abbiamo ok vado avanti aspetta che ok l'ignoranza dei contenuti di open science e di nuovo appunto assolutamente fa parte diciamo l'ignoranza di varie cose appunto degli standard dei contenuti di open science e l'importanza dell'open science sono tutti diciamo delle barriere chiaramente scherza consacurezza della condivisione dei dati di timore di perdere la paternità della scoperta di nuovo anche questo io non so Emma se via via tu vuoi anche aggiungere le commenti che è importante che tu lo facessi per esempio sul timore di perdere la paternità della scoperta credo che tu abbia qualcosa di nuovo sì dunque questa è una scusa una delle scuse che vengono date diciamo più frequentemente cioè io non condivido i miei dati perché ho paura che se no poi qualcuno me li me li prende scrive l'articolo al posto mio e quindi i dati non sono più miei allora in realtà è proprio vero il contrario perché nel momento in cui io deposito i dati in un repository in una piattaforma io ho la possibilità di dimostrare che sono stato il primo a raccogliere quei dati ci sono chiaramente dei meccanismi che rendono la data di deposito certa assegnano addirittura ai dataset un identificativo persistente assegnano il fatto che io sia autore di quel dataset diciamo quindi in realtà depositare e condividere è proprio l'atto con il quale si può dimostrare di aver per primo raccolto quei dati quindi è proprio tutto il contrario è chiaro che credo che insomma sotto a questo commento ci sia il fatto che se io condivido i miei dati prima di averli sfruttati al massimo non potrò poi pubblicare così tanto quanto voglio e qui si ricade un po' nel discorso che si faceva prima rispetto alla valutazione della ricerca ho visto che c'è un commento anche su questo la questione della valutazione della ricerca è oggi proprio diciamo oggetto di dibattito internazionale soprattutto europeo l'Europa ha fatto tutta una serie di passi e ci sono delle discussioni proprio ad alto livello per cercare di cambiare la valutazione nel prossimo programma quadro Horizon Europe ci saranno importanti novità verrà valutato molto di più l'aspetto open science sia in fase di progettazione di domanda diciamo per i finanziamenti sia anche nelle fasi successive la commissione ha messo per esempio a disposizione una piattaforma di pubblicazione completamente aperta in tutte le fasi della pubblicazione scientifica questa entrerà poi anche nel sistema di evaluation delle proposte a livello italiano forse molti di voi si sono accorti che ad agosto il ministero della ricerca ha pubblicato una consultazione pubblica sul nuovo piano nazionale della ricerca beh in quel piano era contenuta anche un piano per l'open science dove si fa esplicito riferimento alla necessità di abbandonare i metodi correnti di valutazione basati su indici bibliometrici per passare a un altro metodo di valutazione della ricerca quindi diciamo che questo aspetto sta cambiando è chiaro che ci vorrà tempo ci vorrà una grossa discussione con le singole comunità perché ogni comunità scientifica è diversa però insomma ci si sta arrivando quindi anche quello diciamo lo stiamo lo stiamo superando Emma posso aggiungere certo prego Sara oltre che ringraziarvi per aver ascoltato vi da graziano meraviglia e per avermi coinvolta come tu hai ben segnalato Horizon Europe cerca di spingere verso quell'orizzonte collaborativo e di open science che stiamo descrivendo che è alla base della condivisione dei dati dei campioni di quello che io chiamo al dato globale integrato e tra i requisiti valutati positivamente c'è anche il fatto che le infrastrutture di ricerca estri siano elemento previsto già dal progetto stesso e anche nei costi del progetto perché segnalo questo perché come penso sappiate se non lo sapete dico due parole io lavoro a livello nazionale europeo nel Common Service Elsie di BBM e Rai l'infrastruttura del biobancaggio e la messa a disposizione dei campioni in qualità grazie alla terzietà e tutto il lavoro che fanno le biobanche è un ottimo lavoro di condivisione è un ottimo esempio di condivisione e di condivisione perché la scienza possa fare quel cambio di passo che qua è in gioco cosicché c'è anche questo aspetto e sono completamente d'accordo che questi nuovi indici da tempo sono diciamo agognati perché in fondo noi stiamo andando verso un orizzonte l'Europa ci chiede i cittadini di andare verso quell'orizzonte di ricerca responsabile collaborativa che necessita di modalità e criteri differenti di valutazione del ricercatore ok grazie stavo osservando che questo diciamo le risposte le vostre risposte sulla questione della perdita di paternità qui vedo la credenza che i dati vengano rubati la classica mentalità italiana premia di ottusità possessività gelosia invidia sono la quale si tende a proteggere ciò che viene considerato proprio non pensando che la scienza poggredisce più rapidamente se si condivide la gelosia dei ricercatori publish o appare da un lato la realtà tra i gruppi di ricerca dall'altro insomma molti di voi insomma hanno questa idea mi chiedo se non so se Emma o Sara abbiate commenti su qualcuno di queste altre risposte date dai partecipanti sulle barriere alla condivisione dei dati covid allora io volevo fare un commento c'è stata una domanda che è stata posta in fase di diciamo di iscrizione avete visto nel modulo vi avevamo chiesto se avevate alcune domande e è una domanda che io rivolgerei a Sara e poi magari anche a Graziano rispetto a come si può fare per raccogliere i dati degli ospedali i dati clinici che vengono vengono raccolti negli ospedali vedo che ci sono anche altri commenti che fanno riferimento per esempio al fatto che abbiamo una sanità su base regionale ma che questo diciamo è un problema che dobbiamo affrontare globalmente quindi come sistema paese quello della della condivisione dei dati non so se Sara ha un commento da fare sì volevo solo aggiungere che a questo riguardo diciamo in linea con questa domanda c'è anche una domanda nella sezione per domande e risposte di Enzo Valente che dice è difficile ottenere dati omogeni dalle varie strutture ospedaliere come si può superare questo problema quindi questo è anche questo allegra diciamo il modo c'è il problema che non poi magari quando finisce Sara dico come la pensa ok grazie io sarò leggera perché è un'impresa titanica soprattutto rispetto all'Italia quella che diciamo va sotto il cappello di semplificazione dell'uso di dati che si originano dalla clinica quindi per scopi terapeutici diagnostici in un orizzonte di ricerca e di scopi scientifici futuri allora mi sento di condividere alcune cose che stiamo facendo quindi e che penso che siano quanto più efficaci quanto più occasioni come queste sono occasioni di condivisione di come si sta lavorando e quindi di come si può anche integrare il nostro lavorare per semplificare questo accesso e anche io lo dico dal punto di vista di una persona che è bioeticista innanzitutto allora molto conta l'inizio della storia come nelle favole come si origina quel dato se quel dato è un dato che al di là del momento di pandemia ha quei requisiti che permettono la condivisione e innanzitutto quindi il consenso del cittadino e della cittadina a che al di là della diagnostica della ragione terapeutica per cui quel dato è stato acquisito possa anche e in quali termini essere utilizzato per scopi di ricerca non dico che metà del lavoro è fatto ma c'è un grande un grande passo in avanti tra l'altro per me è interessante leggere questa gelosia del dato da parte dei ricercatori stiamo parlando di dati che si originano attraverso quello che è la condizione di salute di una persona che innanzitutto se c'è qualcuno che dovrebbe dire sono io il proprietario di quei dati particolari o di quei campioni è il soggetto da cui si sono originati quindi innanzitutto fare attenzione a come si origina quel dato avere cura di quell'origine e quindi accanto all'interazione con il cittadino e i cittadini e le giovani generazioni sembra che parli di un mondo che non c'è è qualcosa che noi stiamo facendo da tanto tempo tanto è vero che adesso lavoreremo anche con le scuole sempre parlando del dato biologico innanzitutto ma anche dei dati collegati al dato biologico per quello che è l'engagement dei minori e delle giovani generazioni a sentirsi partecipi cittadini scientifici della ricerca anche proprio perché dando un accesso controllato alla ricerca entrano nel processo della ricerca controllato attraverso il consenso che tipo di consenso qua c'è molto da discutere un processo dinamico partecipato eccetera eccetera l'altro discorso è l'alleanza con i clinici perché se i clinici noi l'abbiamo visto tantissimo nel biobancaggio covid e non covid soltanto sono si sentono diciamo estranei a questo processo ostacolano ostacolano il processo stesso ho mille esempi di ostacolamento di ostacolamento che si può ostacolare in molti modi anche raccogliendo con mala voglia il dato non con quella correttezza con quella con quella fairness di cui abbiamo bisogno e poi tornando al discorso di come la condivisione apre a modo diverso di confrontarsi con tutti gli altri soggetti che hanno permesso quel processo che diciamo di quel flusso quel processo di raccolta di conservazione di dati a livello di di bbm e rai mi sembra molto interessante condividere con voi che abbiamo lavorato l'anno scorso sulla condivisione in correlazione al trasserimento dei campioni negli stati extraeuropei e non solo anche all'interno dei progetti collaborativi e tra gli elementi che sono emersi oltre a quello che ho appena discusso del consenso come determinante la qualità della condivisione c'è anche tutto il tema della co-authorship cioè chi in questo caso dell'inclusione dei ricercatori che sono poi biobancari che raccolgono in qualità e diciamo e strutturano i dati intorno al campione che sono comunque poi parte del processo di sviluppo scientifico e che meritano di essere inclusi questo a dire che quando per mille ragioni io sono tra i vettori come ricercatore clinico che portano il dato alla condivisione quel processo è già di per sé scientifico e deve essere riconosciuto e ci sono veramente non solo dibattiti ma strumenti già a disposizione perché questo accada il mondo delle biobanche dal mio punto di vista del biobancaggio è molto interessante e utile sotto questo profilo perché è costantemente terzo quello che fanno i ricercatori nelle biobanche ma allo stesso tempo è altamente scientifico infatti spesso non solo per le pubblicazioni ma anche nell'ambito di quello che è il risultato di quella ricerca quindi anche per quanto riguarda brevette diciamo trasferimento tecnologico molto si sta determinando in modo che siano tutti riconosciuti nella parte di lavoro che viene fatto e svolta per finire voi sapete che il decreto Lorenzin questa è un'informazione il decreto Lorenzina scusate la legge Lorenzina aveva tra i suoi decreti attuativi un decreto in cui si diceva che l'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con BBMRI avrebbe dovuto scrivere questo un anno e mezzo fa recitava il decreto la linea guida per la semplificazione dell'uso dei dati di origine clinica per scopi scientifici il covid ha stravolto un po' tutto però noi adesso siamo a un redder azione perché questo in modo molto accelerato trovi una conclusione stiamo per finalizzare il programma del 2021 di BBMRI Italia e tra le questioni chiave che saranno nel programma uno è quanto appena descritto e quindi sono tutti benvenuti il modo in cui noi lavoriamo è aperto è partecipato e tra l'altro il CNR accanto a tutte le bio banche di ospedali e l'università è sempre presente nei lavori l'altro tema è diciamo un tema che è stato toccato nei commenti della ma di che struttura abbiamo bisogno perché questo accada di che piattaforme ma anche di che infrastrutturazione a parte che ci sono infrastrutture di ricerca come appena detto e ormai da 20 anni stiamo cercando di capire che modello evoluto di biobanca registro dentro negli istituti negli ospedali abbiamo bisogno che si sviluppi e con che integrazione pubblica e condivisa diciamo a livello di sistema paese finisco non è quel presente spero che la prossima volta possa essere presente un interlocutore fondamentale di nuovo in uno dei vostri commenti dove si parla del fatto che ci sono due ministeri in gioco in tutto questo come due istituti scientifici importanti ma quindi MUR CNR e Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità bene proprio il Covid ha portato quel documento di cui vi ho parlato condivisione trasferimento condivisione dei dati dei risultati e trasferimento in qualità ad essere la base per un lavoro tra BBMRI e 52 IRCCS che fanno questa meraviglia che solo l'Italia ha perché ci sia un'unica buona pratica un'unica linea di indirizzo in questo caso per quanto riguarda il trasferimento ma il Ministero della Salute sta lavorando perché tutto quello che si genera a livello di clinica venga messo al sistema fattore comune per la ricerca e quindi è di oggi di qualche giorno fa la notizia che c'è il primo numero delle bussole che è una linea editoriale curata dal Ministero della Salute io diciamo sono come bioeticista felice di condividerlo non sono parte del Ministero della Salute se non indirettamente perché il Ministero finanzia il Ministero della Salute insieme al MUR BBMRI è una delle tre infrastrutture delle life sciences cofinanziate dai due ministeri ebbene c'è questa questa nuova linea che raccoglierà tutte le linee di indirizzo che cercheranno appunto di fare coine tra i 52 IRCCS quindi lì forse noi potremmo avere potremmo contribuire molto come per esempio stiamo facendo ma anche imparare portare a casa portare nei nostri contesti perché ci sia armonizzazione perché è un po' questo quello che è in gioco molto altro da dire ma di nuovo lascio lo spazio agli altri è troppo importante quello che qua c'è in gioco e sul covid ho già condiviso con Emma e non solo tutti i materiali che di nuovo sono stati creati gli strumenti dalla linea di indirizzo quali dati raccogliere a un consenso semplificato unico a seconda che il paziente sia in emergenza piuttosto che sul territorio tutti quindi l'assetto etico normativo gli strumenti utili perché la raccolta sia con i requisiti etico legali e in qualità allo stesso tempo dentro un contesto armonizzato questo lo potete trovare sia sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità che sul sito di BBMRA Italia grazie mille su questo volevo sentire ancora un momento Graziano poi abbiamo ancora un paio di domande legate diciamo agli strumenti di biobancaggio e insomma dunque molto rapidamente ringrazio Sara perché ci ha offerto una panoramica molto importante anche evidenziando alcune problematiche una di questa è venuta fuori dal Mentimeter che Sara ha citato è che noi a Monte in Italia abbiamo una frammentazione per esempio dei ministeri il ministero della sanità e il ministero della ricerca ora forse si sta capendo che questa frammentazione in qualche modo va superata perché altrimenti corriamo il rischio come dire di far girare il motore per lo più a vuoto e un altro elemento molto importante che non usciremo da questa impasse se non c'è un commitment top down cioè non questa integrazione di dati non può essere fatta su basi volontarie o su iniziative sporadiche singole e così via è importante un commitment top down al più alto livello che poi venga in qualche modo sviluppato per che sia condiviso quindi quello che diceva Sara iniziativa BBMRai Ministero Salute X mi trova molto felice e spero che possa come dire proseguire e concretizzarsi ma qual è lo stato dell'arte lo stato dell'arte purtroppo scusate ma è tragico se voi andate a chiedere a un clinico che cosa vuol dire FEIR che cosa vuol dire GDPR io scommetto che 9 su 10 non sanno di che cosa parla ve lo dico per esperienza spicciola cioè quando mi arrivano i dati i dati dei campioni dei pazienti tipicamente mi mandano un foglio Excel con nome e cognome e data di nascita giusto per darvi un esempio ma perché questo non come dire non si riesce a sviluppare sia per tutte un po' alcune delle motivazioni che qui vedo riportate eccetera eccetera ma anche perché i professional che al momento abbiamo in ambiente clinico diciamo non hanno una preparazione o una inclinazione a fare tutto questo ecco perché dicevo che bisogna come dire introdurre in questa realtà delle figure di supporto che io ho chiamato data scientist ma chiamatele come volete che in qualche modo fungano da interfaccia fra il sistema che i dati li raccoglie e li rende fruibili a quelli che i dati li producono in modo che aiuti il personale che è in corsia che è nei laboratori diagnostici li aiuti e li supporti in tutto questo altrimenti secondo me l'impresa sarà come dire probabilmente senza mission impossible come si può dire ora naturalmente la pandemia ci ha messo di fronte a una crisi molto seria su questo e ci stiamo accorgendo di quanto tutto questo stia rallentando il progresso della ricerca in Italia altro elemento molto importante ma questo diciamo Sara lo sa bene è che quello che facciamo in Italia non deve essere limitato al nostro perimetro ma comunque si deve integrare in quelli che sono standard internazionali perché il dialogo e l'interazione non è ristretto a livello locale intendo l'Italia ma deve essere ovviamente il più ampio possibile posso prendere una palla al balzo su questo aspetto Graziano perché è vero che l'Italia sta messa male però io ho un osservatorio speciale di cui veramente non sarò mai abbastanza grata del fatto che sono a lavoro in questo osservatorio speciale che è l'Helsea Services and Research Unity di BBM Rai Eric che è il servizio trasversale a tutte le infrastrutture di ricerca per quanto riguarda l'aspetto etico legale e sociale della ricerca in particolare avanzata e in particolare della ricerca basata su dati e campioni in questo momento noi abbiamo parlato di tanti soggetti in gioco stiamo facendo diciamo una mappatura di quello che è l'attualità in Europa della valutazione etica dei progetti collaborativi basati su campioni e dati è davvero veramente ancora più tragico di quello che tu descrivevi dell'Italia ci sono frammentazioni inimmaginabili e solo il nord Europa sta cercando di promuovere tra i comitati etici perché adesso stiamo parlando di questo soggetto che è fondamentale anche come soggetto dentro questo processo perché molte volte tanti consensi quel consenso a cui io mi riferivo sono rigettati dai comitati etici che in modo pedisseco leggono le prescrizioni del nostro garante e sul biobancaggio hanno molto meno competenze o sul dato integrale comportamentale di imaging di quello che dovrebbero avere per fare poi delle valutazioni e solo nel nord Europa si sta arrivando a quello che si chiama recognition quindi quel fenomeno per cui quando io sottometto un progetto di ricerca in Norvegia e vengo valutata positivamente questa è la valutazione del comitato etico che mi porto in giro per tutta l'Europa quindi una condivisione anche e un'armonizzazione di quello che sono i processi di valutazione delle ricerche che prevedono accesso a dati e campioni per poter essere svolte No, in effetti l'altro aspetto che volevo dire è che la situazione è tragica però a fronte di professionalità e know-how di eccellenza di cui disponiamo il che diciamo anche a livello nazionale il lavoro splendido che state facendo io ti volevo fare una domanda per esempio anche sul discorso del biobancaggio di raccogliere e non buttare via i campioni Ho fatto una domanda a cui nessuno mi sa rispondere Neanche io credo Voi sapete che ora in Italia stiamo facendo centinaia di migliaia di tamponi da vari soggetti e ovviamente positivi negativi tutti questi campioni biologici sono estremamente preziosi non solo ovviamente i positivi in cui si va a vedere cosa è ma anche i negativi perché se voi avete ad esempio un negativo di un RSA e abbiamo un certo gruppo di soggetti che sono negativi pure in un ambiente ostile evidentemente avranno un profilo genetico molto interessante La domanda che io ho fatta a cui nessuno mi sa rispondere è che cosa succede a tutti questi tamponi che vengono fatti cioè la risposta che mi sono data è che vengono buttati via comunque il che diciamo non mi rincuora molto volevo sapere se tu ne sapessi qualcosa in merito Scusate il sospiro tra l'altro c'è una domanda sul biobancaggio anche commerciale o istituzionale ciò di cui stiamo parlando è biobancaggio istituzionale BBMRai è una biobanca che muove il biobancaggio per un uso no profit le biobanche possono essere anche presso enti convenzionati e privati però usano profit per rispondere a te Graziano quando tutto è iniziato ci ha preso un po' in contropiede ma rapidamente abbiamo compreso quanto prezioso fosse qualsiasi campione come tu hai ben descritto quindi da lì quel consenso semplificato che abbiamo messo a disposizione di tutti sia in inglese che in italiano e abbiamo fatto vedere anche al garante una mediazione perché ci fosse uno strumento che ci permettesse perché il punto uno potrebbe dire quei campioni li anonimizziamo e li usiamo così anonimizzati possiamo farlo in un stato di emergenza ma non ci serve per quello che è lo sviluppo della ricerca stessa in gioco e la necessità di andare a connettere con altri dati che non sono solo quelli che il campione ci offre allora quando abbiamo costruito questo consenso perché fosse nel tempo possibile ricontattare le persone o diciamo chi rappresenta quella persona che poi magari è deceduta ci siamo detti due cose uno evitare quello che purtroppo è successo siamo registrati purtroppo sì comunque un dato è che tantissimi di questi campioni vengono lo stesso usati per ricerca ma fuori dal circuito di cui noi stiamo parlando che è un grosso problema e quel circuito in cui ci sono collezioni interscambi sotto banco tuttora qualcosa che non dovrebbe più esistere perché poi diciamo fa un danno alla qualità della ricerca e a quello che è diciamo l'esigenza del cittadino che si sviluppi ricerca correttamente responsabile e che ritorni ai cittadini l'altro aspetto è che durante la prima ondata si è pensato però si è detto che non era il momento opportuno si è anche proposto di fare una grande campagna diciamo pubblicità progresso chiamiamola così con tutti i cittadini per far capire l'importanza di rendere disponibili i campioni alla ricerca qualsiasi campione e in particolare proprio allora poi tutto fu bloccato adesso probabilmente lo riprendiamo un lavoro con i minori come già vi accennavo prima vediamo se questo accadrà però dovremmo anche in questo unire le forze Graziano cioè siamo tutti parte di quello che vorremmo essere un'azione di sistema bisogno di armonizzarsi bisogno di alcune azioni in cui i cittadini e i clinici devono essere supportati e dal mio punto di vista informati ma non è così complesso informare noi abbiamo dalla nostra parte cittadinanza scientifica e tutte le associazioni dei pazienti hanno lavorato con noi a quel consenso per la ricerca covid che vi ho detto e pronte a fare un'azione di sistema per finire abbiamo anche scienza under 18 che non so se conoscete come rete di tutte le scuole che pensano la scienza come in termini di proattività dei ragazzi degli studenti anche loro assolutamente interessati ad esserci scusa come siamo in chiusura io volevo portare diciamo delle domande forse non c'è in questo momento il tempo di rispondere però c'è Marco Ceramella che ha posto più domande tutte legate agli aspetti poi pratici dire bene allora qui si sta pensando un sistema un'infrastruttura per la raccolta dati eccetera però poi lui fa domande del tipo esiste una procedura europea a me verrebbe da dire anche esiste una procedura italiana per mettere a disposizione supponiamo i dati dei tamponi su una piattaforma oppure dice potete dirci di più sugli strumenti di biobancaggio quali sono con che modalità come organizzare tutto questo e poi dice io sono un data scientist posso fare il volontario cioè dal punto di vista poi pratico di chi vorrebbe capire quali sono appunto tutti gli standard per la raccolta dei dati che vorrebbe fare il volontario per la raccolta dei dati dal punto di vista pratico come fare per far conoscere le iniziative che ci sono in atto e poi per renderle in prospettiva operative e in che tempi io rispondo per quanto one shot su una delle domande per quanto riguarda i campioni sia nella directory italiana di vdmride.it che nella directory europea c'è proprio una sezione covid 19 e non sono pochi i campioni anche italiani che sono stati diciamo resi disponibili per darvi alcuni nomi alcuni numeri ci sono 10 corti con più di 82.000 campioni di 10.500 pazienti abbiamo anche 20 RSA della Lombardia e una RSA delle Marche con 1.650 pazienti e 9.800 campioni la corte dei pazienti pediatrici che è al bambino Gesù la corte dei lavoratori sanitari tutto questo lo trovate sulla directory di BBMRI Italia allo stesso tempo c'è tutta una sezione dedicata nella directory di BBMRI questo per i campioni e i dati diciamo di minima che sono stati associati ai campioni dati molto legati attraverso quale test con quale status del paziente con quale follow up quel paziente sono dati molto strettamente legati al Covid-19 non dati altri come come ascoltavo prima Graziano dall'evento di Graziano e sugli strumenti che cosa si intende per strumenti io posso dire che per quanto riguarda di nuovo la raccolta dei campioni e dei dati Covid ma non solo Covid ci sono strumenti sia healthy che di qualità di nuovo a disposizione come partecipare se una persona per la prima volta ascolta tutto questo semplicemente scrivendo diciamo per quanto riguarda l'Italia a italy at bbmri punto it per bbmri eric se si vuole andare direttamente in Europa scrivendo alla mail di bbmri eric e segnalo mi sono dimenticata noi stiamo facendo una giornata nazionale modulare di bbmri dovuta al covid cioè due ore ogni due settimane e il 25 novembre credo ci saranno due ore tutte dedicate alla ricerca covid-19 vado a verificare perché non ho una buona memoria no mi sono sbagliata è il 26 novembre dalle 14 alle 16 dove si dice appunto nel dettaglio e anche dalle persone che ognuno con il suo ruolo ha contribuito a tutto questo quindi dal dataset a come entrare nella directory e usarla agli strumenti etici e normativi che abbiamo preparato quindi non è per partecipare le porte sono aperte ed è molto semplice basta iscriversi avere la newsletter e magari a seconda di dove si è c'è per quanto riguarda le biobanche c'è una mappatura di tutte le biobanche partner che fanno parte di BBMRA e che copre tutto il paese e uno può guardando la cartina dell'Italia capire dove è la biobanca vicina e interfacciarsi con questa biobanca se c'è questo interesse per quanto riguarda gli RCCS io spero che ICDI presto decida di far sì che la direzione degli RCCS come direzione sia coinvolta in questa grande e meravigliosa azione che state promuovendo perché anche lì molte azioni sono in campo e c'è grande disponibilità a interscambiare diceva giustamente Graziano e forse anche qualcun altro se c'è già una buona pratica ma prendiamola facciamo una nostra mettiamola a sistema non andiamo ogni volta a ripetere e a lavorare per compartimenti stagni un grosso problema è quello dei compartimenti stagni silos non è più per silos né la ricerca né la struttura che permette la ricerca grazie io sono a disposizione per chi vuole potete scrivere a elsi bbmri.it io rispondo a quella mail per chi vuole sapere degli strumenti nel dettaglio preparati a essere ultimamente convolta in questa iniziativa di disseminazione dei nostri webinar e tutorial grazie molto non passo la palla ad Emma che grazie Allegra grazie Sara e grazie Graziano voi avete visto c'è un nuovo spazio su Mentimeter dove potete lasciarci tre concetti noi lo lasciamo aperto ancora nei prossimi giorni quindi se volete poi potete continuare a condividere con noi quello che vi ha lasciato questo webinar io giusto per chiudere direi che ci sono un sacco di domande di commenti ai quali non siamo riusciti a rispondere per motivi di tempo ma risponderemo a tutti come siamo soliti fare attraverso un pdf che metteremo a disposizione su Zenodo e anche sulla pagina degli eventi che stiamo organizzando sul portale di Open Air che probabilmente conoscete quindi vi invito nei prossimi giorni ad andare a vedere se abbiamo finito di scrivere e abbiamo condiviso con voi tutto inseriremo anche i contatti di Sara quindi se ve li siete persi chiaramente li ritroverete lì ci saranno i link a tutto quello che lei ci ha descritto e vi ringrazio perché ci avete dato molti spunti ci sono state molte domande mi dispiace di non essere riuscita a rispondere a tutto ma ci saranno chiaramente altre occasioni quindi tenetevi come si dice stay tuned perché stiamo organizzando per voi i prossimi eventi e quindi ci vedremo presto grazie buonasera a tutti grazie ciao arrivederci